Con cuori pesanti e occhi velati di tristezza, vi diamo il benvenuto nel nostro canale. Ma prima di iniziare, ti invitiamo a iscriverti, lasciare un segno di partecipazione con un mi piace e iscriviti al canale per rimanere aggiornato su tutte le notizie future. Il mondo della danza e della televisione è in lutto per la recente e tragica scomparsa di Daniela Romano, la famosa ballerina che ha affascinato il pubblico nel celebre programma Amici, ideato e condotto da Maria De Filippi. Un programma che, fin dalla sua prima edizione, è stato più di una semplice competizione, diventando una grande famiglia che ha unito persone attraverso la passione condivisa per il canto e la danza. Daniela ci ha lasciati prematuramente, a soli 40 anni, generando un'ondata di dolore e commozione tra amici, colleghi e fan. Sebbene le circostanze della sua morte siano ancora avvolte nel mistero, si sussurra di una possibile malattia recente. La notizia è stata divulgata sui social media da Mirna Brankot, sua collega e amica, che ha espresso il suo dolore rievocando momenti condivisi e riflettendo sulla crudele imprevedibilità della vita. La comunità di artisti e ballerini che hanno condiviso il palco con Daniela è scossa dalla sua dipartita, unendosi in un silenzioso abbraccio di lutto. Paolo, anch'esso un volto noto del programma, è vicino a Daniela durante la trasmissione e ha condiviso un ricordo personale e intimo attraverso i social media, narrando di uno sguardo che ha segnato l'inizio di un legame speciale. La scomparsa di Daniela Romano non solo crea un vuoto nei cuori di coloro che l'hanno conosciuta e amata, ma segna anche il ricordo di una figura artistica che ha emozionato e coinvolto il pubblico con la sua passione per la danza. La sua eredità sarà viva nei ricordi di quegli sguardi che hanno toccato le vite di molti. Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video e a seguirci per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito, e a presto con un nuovo video.